buongiorno a tutti allora ultime volte che vi faccio vedere la magliettina della settimana è l'ultima gli ultimi due video eccola qua l'avrete già vista se mi seguite da un po' ma se mi seguite da poco la vedete per la prima volta in questa settimana allora 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 schedine del gigione per le gare di oggi poi faremo il video di riepilogo della prima giornata tra virgolette della quarta giornata scusate prima giornata della quarta giornata perché sono tre giorni in cui si gioca le partite dei 4 8 12 14 gironi quindi in tre giorni fanno tutte le gare e quindi ieri si è giocata la prima primo giorno della quarta giornata comunque oggi si disputeranno alle 18 c'è azerbaijan slovacchia un bel due ci vuole georgia albania 1x belgio francia x2 bosnia erzegovina ungheria partita tosta però anche qui metterei un bel x2 estonia svezia 2 galles montenegro 1 germania olanda 1x anche se voglio per i brevato l'uno potrebbe andare bene però questa olanda potrebbe anche fare lo scherzetto alla germania non si sa mai islanda turchia 2 o per essere più tranquilli is 2 italia israele 1 a meno che non facciamo un'altra si fa espellere qualcun altro spero di no e infine ucraina repubblica cieca è questa questa è tosta questa è tosta ragazzi 270 l'1 265 il 2 3 10 di x ma senza saperne leggere né scrivere come dicevano una volta mi arrischio un is fisso ma la vedo dura questa francamente non ve la consiglio di giocare perché veramente esula da ogni pronostico può succedere veramente di tutto indi per cui mi arrischio un is ma è proprio buttato lì come lanciare i dadi se lo prendo a 3 10 e tanta roba ma sarebbe fortuna e ragazzi non qua c'è poco da stare lì a fare no però io ho studiato ho guardato ho visto qua la è culo su alcune cose uno potrebbe dirmi no ma però io ho studiato ho fatto eccetera va bene lasciamo perdere andiamo alla schedina alternativa azerbaijan slovacchia gol gol mi fa libidine come georgia albania anche qui gol mi fa libidine belgio francia over 2 e mezza 1 e 80 scusate non vi ho detto le quote azerbaijan slovacchia gol a 2 10 georgia albania gol gol a 1 e 99 belgio francia over 2 e mezza 1 e 88 bosnia erzegovina ungheria anche qui andrei a gol a 1 e 85 estonia svezia over 2 e mezza 1 e 55 galles montenegro questa è tosta perché questa mi puzza di 1 a 0 punteggio simile quindi i ragazzi miei visto che comunque le quote me lo consentono perché è alto all'overo se me lo prende ecco forse ce la facciamo forse forse meno male che il video è corto così non mi picchiate ecco adesso è sparito è sparito eccolo qua è basso però va beh mi arrischio galles montenegro over 1 e mezza 1 e 33 perché l'over 2 e mezzo non me la sento mi puzza di un risultato di una vittoria risicata del galles tipo una poi magari finisce 4 a 3 libidine ma vedendo l'andazzo faccio un over 1 e mezza 1 e 33 so che è basso poi per i brevar se volete rischiare l'over 2 e mezzo era 2 e 10 quindi libidine come direbbe il buon calà proseguiamo con germania olanda e qua il gol ed obbligo a 1 e 56 islanda turchia anche qui metterei un bel gol a 1 e 75 che mi fa libidine italia israele over 2 e mezza 1 e 45 non facciamo i golosi che già se esce fuori un 3 a 0 è tanto e concludendo concludendo ucraina repubblica cieca ucraina repubblica cieca ecco qua ragazzi miei è un casino perché questa è una partita che può finire 1 a 0 0 1 oppure può venire fuori una partita da doppia libidine coi fiocchi 3 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 3 3 a 1 cioè punteggi così siccome io sono come sempre un ottimista l'ottimista come di cantava il buon venditti il buon venditti cantava l'ottimista dall'aria vagamente socialista io faccio l'over un bel gol più over e vediamo cosa succede soprattutto che quota c'è al gol più verdi adesso aspettiamo che lo prenda ucraina repubblica cieca gol più over due e mezzo a 2 e 30 se lo prendo è tanta roba se lo prendo il pronostico naturalmente non pensiamo male perché da princigigi anche no in questo caso anche no detto questo ragazzoli queste sono le mie propostine stavolta ve le ho fatte anche oggi ero un po nella notte diciamo così perché torno a casa adesso sono un orario abbastanza decente comincio a vedere casa a prima vista comincio a sentire la musica faccio tardi e anche io bisogna un attimo dire las non è che torno a casa video dormo perché per i primi quattro mesi la vita era quella riuscivo a vedere a malapena un episodio di casa a prima vista di si e sai e per il resto facevo lavoravo al ristorante tornavo a casa facevo i video vedevo un episodio dormivo questo essere quattro mesi così quattro cinque mesi adesso l'ultimo mesetto diciamo che mi sciallo un attimino di più quando torno a casa perché va un po meglio ecco per intenderci comunque tutto bene tra poco finisce poi mangia ma hanno già bloccato per l'anno prossimo quindi sono sono tranquillo detto questo ragazzoli vi saluto vi ringrazio adesso andiamo a fare l'altro video che vediamo come è andata la giornatona di oggi mi sembra non ci siano state sorprese infatti ho preso anche una bollettina con i miei soliti due orini però pagava tre volte qualche cosa alla posta e portarla a casa sono nettamente sopra i 10 euro io sono già contento così almeno faccio tutto il mese senza tirar fuori nulla spero spero perché poi dopo tra poco ricomincia al campionato eccetera eccetera vedremo ragazzoli vi saluto e adesso vado a fare l'altro video su queste gare che si sono disputate ieri ciao